Ciao raga, bentrovati sul mio canale YouTube, oggi è lunedì, quindi analisi gameplay, ma oggi in particolare ci tengo che arriviate fino alla fine perché è una partita ricca di colpi di escena, entusiasmante, con un finale veramente clamoroso, quella che è stata tra Cosimo e Adriman nell'ultima Food Champions Cup che si è disputata circa due settimane fa, quindi veramente mettetevi comodi perché la partita che vi aspetta sarà ricca e densa di sorprese. Passiamo subito quindi sulla schermatina e ci attende il game, eccoci qua, pronti anche con la nostra lavagna tattica in basso a sinistra, possesso palla da parte di Cosimino che attacca in questo primo tempo da sinistra verso destra, vedete che questo è il match di ritorno, Difatti la scoreboard recita 2-2 in quello che è stato il match d'andata tra questi due giocatori, il match era quello del loser bracket, il secondo turno, quindi già una partita che iniziava a contare abbastanza per poter poi ambire, a mettere le mani sul trofeo, E Cosimo qui vedete con il suo solito 4-3-1-2 che abbiamo ormai imparato ad imparare come vada lentamente a cercare gli spazi, ma Adriman faccia invece buona guardia e recupera palla con James per poi completare il disimpegno verso Mendy. Alla ricerca di Kuluseski in zona esterna, vedremo come Adriman andrà a ripetere continuamente per tutti i 120 spoiler minuti il pattern della palla lunga. Palla lunga, filtrante, che tra l'altro, spoilerone, è l'argomento del video di domani raga perché ho fatto una scomperta sensazionale, anche in questo caso, c'è un'impostazione che vi permette di fare i filtranti meglio. Io penso di aver giocato a un gioco praticamente totalmente differente fino ad ora avendo un'impostazione diversa, quindi domani vi spiegherò cosa bisogna andare a settare per poter fare i filtranti in maniera, diciamo, più buggata, ecco, come piace dire a noi. Intanto Adriman qui subito, ancora una volta, palla dentro verso Mbappé, cerca in questo caso un po' più il lavoro dall'esterno verso l'interno, qui però sbaglia il tunnel direzionale e Cosimino fa invece buona guardia. Si va subito, vedete, ad appoggiare sulle due punte che nel 4-3-1-2 gli fanno da riferimento per portare sulla squadra, però poi inesorabilmente il fulcro dell'azione passa tra i piedi di quelle che sono le tre mezze ali e vedremo poi anche più avanti di quelli che sono i terzini. Vedete questo Felix come gli manovra benissimo, gli lavora benissimo il pallone. Guardate come in questa situazione, ragazzi, quando lui ha tra i suoi piedi la palla con Felix, guardate qui come c'era Mendy in questa porzione alta del campo a spaventare la difesa di Adriman e quindi a non poter uscire per evitare di prendere poi imbucate nella zona alta. Quindi si viene a liberare lo spazio per Mbappé, Cosimino è bravissimo a cercare la costruzione del tunnel direzionale per potersi lanciare e bustare verso la porta avversaria, ma anche Adriman qui fa ottima guardia. Guardate come subito cerca un'altra volta questo filtrante nella zona di Cristiano Totti, però un po' telefonato e quindi Cosimino riesce a completare il recupero del pallone, a ripartire con i suoi soliti giocatori, con Bruno che impostano verso Cristiano Ronaldo, si allarga senza andare troppo, palla poi verso Llorente, Neymar, ancora Mbappé, finalmente arriva in questo caso l'1-2, guardate bellissima qui la palla, bellissimo anche il controllo con la suola a cercare di evitare Schmeichel che entra come un treno sulle caviglie del francese e procura dunque il calcio di rigore a favore del buon Cosimino. Si presenta Cristiano dal dischetto, parte con lo scavino, è la rete dell'1-0 a favore di Cosimo, occhio vi dico a questi scavini perché non è la prima volta che li vedremo durante questo game, quindi occhio che sono stati anche poi oggetto di polemica incredibile su Twitter da parte di Adriman, cose insomma, che però devo dire fanno anche parte del gioco, un po' di dramma, un po' di pepe fa parte ecco del mondo esport, no, sfottò come avviene tra squadre di calcio, ci sta, ci sta, ci sta, un po' di pepe, a me piace, insomma. Non deve mancare secondo me per rendere il tutto più avvincente. Quindi Adriman sotto, 1-0 Cosimo che quindi si riporta in vantaggio anche in quello che è il computo totale che recita dunque 3-2. Cerca subito lo spagnolo di affacciarsi nuovamente in quelle che sono le zone offensive per mettere paura e pressione a Cosimino, ma vedete come non si fa intimorire, anzi qui cercava probabilmente il filtrante nella zona di Mbappé, però fa buona guardia la difesa di Adriman, quindi costringe Cosimino a tornare indietro. Qui una bellissima situazione, perché guardate come Cosimo con questo dai e vai si costruisce la giocata verso Cristiano Ronaldo. Qua secondo me poteva fare due cose, fare un altro passetto e azzardare anche un tiro, perché vedete che in questo frangente c'è questo spazio libero, quindi avrei potuto anche azzardare magari un tirello a giro, oppure magari un tacco-tacco e tirare una mina. Io questa giocata onestamente che ha fatto della suola e poi del tacco-tacco non l'ho tanto capita, perché l'ha portato poi a perdere effettivamente il tempo di gioco e Adriman recupera il pallone. Adriman che nuovamente lancia subito con l'ennesimo filtrante il buon Kuluseski in fascia, vedete come cerca di andare a trovare poi il giocatore al centro dell'area, ma Cosimino è veramente masterclass in quanto riguarda la fase difensiva al momento, e non solo al momento, ma per 360 gradi, Cosimino veramente ipnotico per come difende, tanti tanti applausi. Comunque il tutto era nato su quella giocata da parte di Cosimo, che probabilmente meritava sicuramente migliore fortuna, perché lì ci poteva stare la conclusione che magari sarebbe valsa il bersaglio grosso. Ronaldo guardate come lavora benissimo il pallone, tocchi di prima a cercare Mbappé, ancora una volta palla recuperata, e ancora una volta Adriman che manda quel Mbappé Totti nelle praterie per cercare il filtrante, Bruno Fernandes fa là dentro un altro filtrante, sembra diciamo, io quando tilto Weekend League inizio a tirare dritto come una faina, Adriman lo sta facendo in uno dei tornei più importanti dell'anno, Adriman tra l'altro che è l'unico giocatore europeo ad essersi qualificato a tutti e quattro i tornei fasi finali, quindi tanti applausi comunque anche ad Adriman, perché insomma non ci si finisce lì per caso, nonostante abbia uno stile di gioco un po' esotico. Qui Cosimino forse ancora una volta teme di affondare, perché ci poteva stare il pallonetto su quel primo controllo, e onestamente anche qua, guardate qui, costruzione meravigliosa della manovra con Neymar che poi allarga verso Mbappé, e qui secondo me ci poteva stare il tiro di prima di Felix ad incrociare, ancora una volta ha cercato il tacco-tacco che ha ridotto un po' troppo lo specchio di tiro, e questo non ha fatto altro poi che, insomma, causare la parata da parte di Schmeichel. Quindi si è risolto tutto quanto in un nulla di fatto, anche questa azione che probabilmente meritava sicuramente migliore fortuna. Adriman al 43esimo decide saggiamente magari di rallentare per aspettare il 45, e invece tenta un altro filtrante con Mbappé che entra a cannone su Varane, falciandolo da dietro, e si prenderà sicuramente un gustosissimo cartellino giallo. Adriman che comunque continua a fare filtranti senza che ci sia un domani. Tra l'altro Adriman, a proposito dello sfottoso cucchiaio, eccetera, eccetera, era stato anche molto criticone sotto questo punto di vista, nei confronti di chi utilizza il 4-3-1-2 dicendo che chi usa il 4-3-1-2 non sa giocare a calcio o a FIFA, eccetera, eccetera, perché giustamente chi spamma filtranti invece a FIFA ci sa giocare, signor Adriman, quindi pensiamo un attimino a, ecco, pararci, anzi a misurarci la palla, come diciamo dalle mie parti, prima di aprire bocca, perché FIFA è un videogioco, ognuno lo interpreta come gli pare, e alla fine l'unica cosa che conta sono i risultati, quindi tu sei lì grazie ai filtranti, Cosimo è lì grazie al 4-3-1-2, quindi incassa e porta a casa. Qui intanto il filtrante riesce, perché è stato bravissimo con questo, guardate, con questo contromovimento da parte di Jones, ha aspettato e poi ha fintato di andare in questa direzione e ha smarcato in questo corridoio centrale Mbappé, precisissimo anche Jones perché non era una palla facile da servire, palla che però arriva con i tempi giusti e Varane deve compiere un vero e proprio miracolo, e tra l'altro il rimpallo gli dà anche ragione, e quindi rimessa dal fondo da parte di Cosimino, che qua sicuramente può tirare un sospiro di sollievo, perché insomma era una situazione molto 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 complicata, così come lo è questa, con Pope che deve sparacchiare come può, visto che ormai il pressing della squadra dello spagnolo si era alzato e rischiava di diventare troppo pericolosa quella situazione. Ancora Jones a guidare la transizione offensiva di Adriman, a cercare questo filtrante nella zona di Mbappé, e i signori di Twitch ci sparano una pubblicità sul VOD, quindi il bello della diretta va bene così, 30 minuti di ADV da parte di Twitch, va bene così, va bene così. Niente, comunque Adriman, che aveva buildato molto bene questa azione, stiamo vedendo con Mbappé facendo quel tunnel direzionale per andare ad aggredire lo spazio all'interno dell'area di rigore, però Mendy fa buona guardia nonostante il rimpallo, tra l'altro aperto e chiuso a parentesi, signori di EA che potreste evitare di mettere la pubblicità sul VOD con tutti i migliaia di milioni e di miliardi che fatturate da FUT, ecco quindi magari pariamoci anche e misuriamoci la palla anche in questo caso, però figo questa cosa, ogni minuto accade qualcosa, uno spunto di riflessione molto molto epico. Qui intanto il filtrante lo fa bene Cosimo, però Schmeichel esce nuovamente a cannone, stavolta però senza prendere le caviglie del povero Kylian e di conseguenza non è calcio di rigore. Adriman continua con questo suo giropalla alla ricerca della profondità sulle sue due punte, ma Cosimo ormai ha capito il copione e vedete come riparta sempre con Maestria, qui stavolta cerca lui l'imbucata dentro con Cristiano Ronaldo che vince un rimpallo, Brunello Fernandes si porta a spasso tutta la squadra di Adriman, arriva nuovamente la palla a Felix al limite dell'aria, guardate qui il tunnel direzionale per prendere velocità, torna dietro, ancora una volta Cancelo che non ci capisce granché, Neymar, ancora tunnel direzionale, palla dentro verso Felix, a rimorchio verso Cristiano Ronaldo, il tacco tacco. qua bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare, perché Adriman fa un grande intervento, perché Cosimo qui veramente se l'è lavorato alla perfezione, però guardate qui in questa situazione, come lui con Walker vada a giocare praticamente da portiere aggiunto, capendo che ormai Mendy era fuori dai giochi, James non poteva arrivare a chiudere, l'unica cosa che poteva fare era prendere Walker e cercare di coprire questo spazio qua, dove insieme al portiere si sa che la palla sarebbe sicuramente transitata, quindi tacco tacco magistrale la chiusura di Adriman che si salva come può, al minuto 62 in quello che ormai è un monologo da parte di Cosimino in questo game, Cristiano Ronaldo cerca poi di allargare la palla verso Kuluseschi, ancora una volta però chiuso da quello che è la gabbia di Cosimino, palla verso Neymar, Brunello Fernandez nel cerchio di centrocampo a cercare di far salire i suoi, guardate Adriman come vorrebbe uscire magari a pressare, ma sa che concedere un centimetro a Cosimino in questa fattispecie può significare game, set e match per l'italiano, ottimo il tunnel laterale a prendere campo, Cristiano Ronaldo entra ancora una volta bene in aria, a rimorchio poi c'è Bruno Fernandez, buona anche la crocchetta cancellata qui, per aggiustare il controllo del pallone, vedete come Cosimino non va mai a buttarla via, guardate come aggredisce il campo in quelle che sono tutte le porzioni, qui con Bappé aveva conquistato benissimo lo spazio, senza però purtroppo andare a ottenere la sorte sperata, ancora una volta qui Adriman che cerca la palla filtrante verso Kuluseschi, attenzione perché a breve vi invito a guardare la cam di Adriman, 3-2-1, urlo del Muis! Proprio Adriman, come una salamandra arruffata, ha scaricato un urlo liberatorio, mi fa ridere, sembra veramente una salamandra, non lo so, quei draghetti che tirano degli urli, tanta roba, me lo ricordavo che era proprio questo il momento dell'urlo di Adriman, dopo l'urlo di Munch abbiamo l'urlo di Adriman, visibilmente frustrato dal continuo sbattere sui giocatori di Cosimino, però fondamentalmente è magistrale al momento la partita da parte dell'italiano, mentre Adriman ha fatto molto molto poco, cercando sempre e solo quel cavolo di filtrante che non gli ha detto sino ad ora bene. Qui ancora un'occasione per Cosimo servire dentro Bruno Fernandes, e qua un'altra giocata che secondo me poteva finire diversamente, perché guardate qui, palla con Bruno Fernandes, qui c'era palesemente il buon Cristiano Ronaldo, che avrebbe insaccato dentro con una facilità storica il 3-1, il 2-0, il 4-2 totale, però purtroppo Cosimo non l'ha voluto trastare, non se l'è sentita, ha cercato questa palla verso Bruno Fernandes, giostrandosela anche poi bene, poi la palla termina un'altra volta su Brunello, che però era in fuorigioco, e di conseguenza niente può fare Cosimo da lì. Pausa che finalmente arriva per Adriman per andare un attimino a mettere a posto le idee, lo stress, un attimo due paroline con il coach che mette la mano davanti alla bocca alla Cassano, perché probabilmente gli avrà confidato il segreto di Fatima, e intanto, ottantesimo, Adriman cerca questo filtrante ancora nella zona di Mbappé, centralmente, però chiuso da Varane, Pope qui si inventa una sventagliata pazzesca nella zona di Brunello Fernandes, che pazzescamente ci arriva, e allora qua succede la magia, perché Bruno Fernandes entra quasi in aria, crocchetta cancellata, si porta Jones totalmente a scuola, palla recuperata da Neymar, palla dentro verso Cristiano Ronaldo, e finisce fuori. Qua voi direte gioco di me 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 me. Allora, gioco di me 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 me, siamo d'accordo, però che cosa succede? Qui succedono due cose. La prima è questa, ossia che quando il buon, ecco qua, quando il buon Cosimino fa questo tunnel direzionale, in questo frangente qua, ha il passaggio su Ronaldo. Quindi che cosa accade? Che nel momento in cui la palla inizia a scivolare verso l'esterno, vedete? Vedete, 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 guardate lui, ancora una volta, Adriman è bravo con Walker, andarsi a piazzare in porta. Cosa succede? Che essendo Walker davanti alla traiettoria del tiro, il gioco in automatico fa sì che il tiro non vada di qua, ma vada più largo per evitare l'autoblock. È un gioco di beep? Probabilmente sì, ma è esattamente quello che è accaduto, per cui bisogna farsene una ragione. e purtroppo all'ottantaquattresimo, chance gigantesca da parte di Cosimino per andare a chiudere il match. Ottantacinquesimo, quindi contropiede con Mbappé che fa il tunnel direzionale, la palla poi rimbalza su Varane, rimbalza su Pope, e questa è la più classica delle frittate, ragazzoni miei. Uno a uno per Adriman, che in questo momento non aveva fatto assolutamente niente, e quindi trova il pari dopo un gol regalato da parte del gioco e Cosimino che meritava di stare almeno un paio di gol sopra. Ottantaseiesimo, ragazzi, però state ben saldi sulle vostre sedie perché non è finita qua. Non è finita qua questa partita. Difatti, Cosimino non si scoraggia. Sappiamo che il kick-off è un qualcosa di magico, sappiamo che poi all'ottantottesimo manca poco al novantesimo, che è un altro elemento molto molto epico, e di conseguenza cerca di sfruttarli entrambi. Vedete come giostra la palla da una parte all'altra e poi dall'altra all'altra ancora con Mendy per Joao Felix, ancora Mendy in fascia a sfruttare la larghezza del campo per liberare gli spazi. Guardate, Mendy, palla verso Marco Siorente, Cristiano Ronaldo, vede e serve il buon Neymar Junior, tacco-tacco, si gira Neymar, suola ancora una volta, palla fuori verso Bruno Fernandes, tacco-tacco, ancora verso Neymar, Tunnel e Joao Cancelo, falcia Neymar Junior. Quindi calcio di rigore per Cosimino al novantaduesimo, ormai a tempo scaduto, Cristiano Ronaldo si presenta sul dischetto, Cristiano incrocia sempre, Adriman lo sa, e Cosimino si divora l'occasione della vita. Poi dal calcio d'angolo continua la parata dei miracoli di Schmeichel, perché la prende Cristiano Ronaldo, siamo ormai al 93, con un minuto di recupero, tempo scadutissimo, ancora Cristiano, stavolta Schmeichel la tiene. Lì, Adriman, dopo aver tirato un urlo, tira anche un pugno del Sium, pugno poderoso, sembrava il pugno di Thanos, sta veramente come un toro. due tiri per lui in tutta la partita, Cosimino l'ha messo sotto, ma conosciamo tutti questo fantastico gioco, siamo sul risultato di parità. Andiamo un po' in rapidità, visto che questa partita, vi ripeto, è molto molto lunga, siamo quindi al kick-off da parte di Cosimino, che perde per un attimo il controllo del pallone, salvo per recuperarlo. Bappé parla per l'Ashford, dentro ancora per Neymar, Bappé, Cristiano Ronaldo, a supporto Brunello Fernandes, Stronaldo vede Giò Cancelo, vedete qua, vedete qua ragazzi, l'importanza dei terzini all'interno di questo modulo, perché guardate la corsa che fa Cancelo verso questa zona, e va poi ad incrociare il più facile dei gol lì. Quindi 2-1 per Cosimino, che passa subito in vantaggio, anche nel primo tempo supplementare, primo tempo supplementare che scivolerà verso la fine, senza eccessive emozioni, né da una parte né dall'altra, emozioni che però non mancheranno in quello che è il secondo tempo supplementare, perché secondo tempo supplementare che parte con un Hadriman alla ricerca disperata del gol del pari, sempre con la solita meccanica abusata, ri-abusata, qui ottima la chiusura di Cosimino al 117esimo con Tavernier che riesce addirittura a far caramborare pallone su Mbappé, quindi rimessa dal fondo per Pop, che va dunque a rilanciare lunghissimo verso Mbappé, cerca Mbappé di mettere questa palla a terra, però la palla a terra non la riuscirà a mettere perché la prende Walker e quindi 118, a breve diventa 120, Mbappé, palla allargata verso Ansufati, cerca l'1-2 ancora con Bruno Fernandes, dentro questo filtrantone verso Cristiano Ronaldo, qua, bella giocata di Hadriman che fa suola più scoop turn, insacca di incrociare, la rete del gol del pari, non muore mai il nostro spagnolo, e quindi il match termina in maniera inesorabile sul risultato di 2-2, 4-4 totale, e si andrà ai rigori, quindi match che veramente non vuole smettere di regalare palpitazioni, primo rigore con Cosimino che fa il cucchiaio e stavolta Hadriman lo prende, io qui metto un attimo pausa, ragazzoni miei, perché qua vi invito a vedere questo rigore che ha tirato Hadriman, vi ricordo che qui non abbiamo il mirino, perché è la modalità competitiva, per cui il mirino non c'è, non ce l'ha nessuno, lui con Zagaria, 60 di rigore, 40 di rigore, lo tira così, lo tira, voglio farvelo rivedere un attimo, perché probabilmente forse non si è capito bene, guarda, vi tolgo anche la mia webcam in un momento, perché veramente non si, cioè, è qualcosa di molto, molto epico, io vi giuro fatico in questo momento a comprendere, a comprendere quello che ho visto, ancora una volta rivedendolo, vi giuro, non so come abbia fatto a metterlo lì, intanto Cosimino ne sbaglia un altro, stavolta il cucchiaio lo fa Hadriman, Cosimino non si fa ipnotizzare, quindi rimane un solo gol di distacco con Rashford che spiazza Schmeichel, Cristiano Ronaldo poi sul dischetto con Pop che deve necessariamente salvarlo questo penalty e lo fa, quindi pari e patta dopo tre rigori si presenta sul dischetto Marco Siorente, palla che spassa praticamente a un centimetro da Schmeichel col time ed verde che non riesce a intervenire, parte poi Kuluseschi parata da parte di Pop, rigore decisivo quindi per Cosimino, se segna Cosimino si porta a casa questa partita Cristiano Ronaldo ancora una volta in crocia Hadriman glielo para nuovamente Cosimino ancora una volta la chance di pararla per potersela portare a casa rete da parte di Mbappé adesso ragazzi inizierà una fase in cui nessuno vuole vincere questa partita perché parte Cosimino ancora una volta con Mbappé ad incrociare Schmeichel che ci arriva a mettere la manona parte Brunello Fernandez parata anche da parte di Cosimino quindi ancora una volta pari e patta parte Bruno Fernandez cucchiaio ancora una volta Hadriman glielo capisce glielo para si presenta sul dischetto Mendy con il suo con il suo piede mancino ancora una volta Cosimino lo para quindi annullati praticamente tre match point e poi la volta di Varanna ancora una volta cucchiaio ancora una volta cucchiaio da parte di Cosimo con Hadriman che non ci casca parte Walker che tira poi una saracca all'incrocio un altro urlo da parte di Hadriman che stavolta non abbiamo visto perché la cam non era settata propriamente dopo le urla le scosse telluriche che c'erano state quindi vittoria che va allo spagnolo ma dopo una serie veramente abbastanza ambigua che sicuramente meritava di avere un altro vincitore fatemi sapere voi che ne pensate nei commenti di questa partita fatemi sapere se l'avevate già vista vi ricordo di lasciare un like per questo format iscrivetevi al canale trovate raga in descrizione tutte le info per quelle che sono live giornavigliere sulla piattaforma Viola e nulla raga un saluto dal vostro Riberoski alla prossima ciao